3, 2, 3 Scortato dai carabinieri, un cappello di velluto marrone in testa, Pietro Pacciani fa il suo ingresso al Tribunale di Firenze, dove risponderà dell'omicidio di 16 ragazzi. Nella foga gli strappano il giornale, dietro cui nasconde il volto. Il suo passo è incerto quando varca la porta dell'aula. Sul viso ostenta un placido sgomento. Sul banco dei testimoni, Pacciani, detto il vampa per la sua facilità ad accendersi di rabbia, recita la parte dell'agnelluccio, come ama definirsi, e mostra, piangendo, santini ed effigi della Madonna. Io sono innocente come Dio sulla croce. Credetemi, vi era fuori, lo prego notte e giorno, guardi, faccia scoprire la verità. E questo Gesù è mio fratello, io ho voluto bene a tutti. Non ho fatto questo male io. Un contadino che va a lavorare alla terra, non ha il tempo, nemmeno le gassi, le scarpe. Come devo fare? Si dichiara innocente e si definisce un buon padre di famiglia. Pacciani guardone, io guardone. Io sono un uomo perfetto come tutti gli altri e ne do la prova. Può essere quest'uomo l'autore di 16 orrendi delitti. In realtà, le testimonianze rese a processo lo dipingono come un sadico, capace di abusare per anni delle figlie, di picchiarle, di essere un marito e un padre padrone violento. Speriamo il signore benedetto, non vedi? Io non ho fatto male a nessuno, mi percepita un figlio. Massimo Canino per decenni ha seguito per Mediaset le inchieste sul mostro di Firenze. Se anche non era il mostro di Firenze, era sicuramente un mostro. Per aver ucciso un rivale in amore, questo è certo, perché lo ha confessato nel 1951, e le modalità per come ha ucciso. Sulle figlie c'è da dire che le violentava, addirittura comprava giornali porno dell'epoca e chiedeva alle figlie di rifare le posizioni che vedeva sui giornali, mentre la moglie era costretta a stare sulla porta di casa a vigilare che non arrivasse nessuno. È tanta la paura che incute ai familiari che la moglie, nonostante decenni di violenze, lo difende dalle accuse in aula e dai giornalisti nel suo paese mercatale. Secondo le sentenze, Pacciani era capo di un gruppo di semi-analfabeti spesso ubriache con problemi sessuali, uomini capaci di uccidere e mutilare senza pietà. Se ce l'ha scritto dice ti ricordi adesso andai a fare... Ma cosa mi importa se ce l'ha scritto ce l'ha scritto? Tra i suoi complici Mario Vanni, postino in pensione, detto torsolo per il fisico asciutto, l'involontario inventore del termine compagni di merende, che da testimone è diventato imputato ed è stato poi condannato all'ergastolo. E poi Giancarlo Lotti, detto Catanga, l'accusatore dei suoi presunti complici, Reo Confesso. Di questa tragedia, trasformata in farsa, Pacciani, detto il vampa, è stato protagonista assoluto. L'eterno riposo donna a lui, Signore, e sprenda a lui la luce perpetua. Con la morte è sfuggito alla condanna definitiva, ma prima ha potuto godere perfino di una soluzione. Io ringrazio il nostro Signor Gesù Cristo e tutti i collaboratori hanno detto la verità. E che devo dire io? Ci sperava, ci sperava, Pacciani, ci sperava. Eh? Ci sperava? Ma io sempre sperava, perché la mia coscienza l'è pulita, io non ho fatto di male a nessuno. Se lo stavo io, ho un bocione, insomma, bociata, anche io la moglie, poverina, perché l'è mezza malata. Allora, la bociale, hai bociata anch'io.